Ciao ragazzi Nome del Signore Oggi è il 5 maggio Nome del padre, del figlio Con spirito sangue Nome del Signore Sono le 7 e mezzo ragazzi È passato da un paio di minuti Andiamo a scuola Con il nostro amico carissimo Super Duke 9,90 In cui ci metto solo la benzina super Da 108 anni E la Eni Blue Super Plus Con rapporti Nel nome del padre, del figlio E dello spirito sangue Eterno riposo Dona loro Signore Splenda ad essere La luce perpetua Riposo in pace Ecco perché nei filmati troverete Insomma, in sintesi Il rapporto alla Corona Corone e Pignone Che appunto Anzi Pignone e Corone Che è 17,38 E 108 E 108 E 108 Per dire 108 La benzina che uso Uso solo quella Feci resettare da Simonelli Moto Da Guido La centralina E Ho iniziato Ho fatto votare Il serbatoio Della benzina Quella con dei 5 ottani Quella normale E ci uso esclusivamente Questa da 100 ottani Perché hanno dimostrato Che C'è proprio un guadagno netto Del 4% La mototecnica italiana Insomma Il laboratorio E Niente E Consuma molto di meno Si riscalda di bene il motore Perché fa meno autocombustione Alla centralina Non Ecco Non gli si accumula difetti Della memoria Insomma Un silicone Es In Argel Sono ritto Man Per Si . Ven Voce Viamo Loce Preso Loce 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 Li Moe Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Anno. Nel nome del Padre, del Figlio, 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 Anno.